Il nostro è un gruppo di volontariato, facciamo un'associazione da diversi anni, si chiama il gruppo missionario Mamma e Margherita, che non è solo a Cotronei, nasce alla mezzia terme dall'idea del nostro padre spirituale che si chiama Don Mimmo Baldo e opera in Uruguay e in Bolivia. Raccogliamo fondi per i ragazzi che sono lì e qualcuno di noi già c'è stato, ha fatto esperienze lì. E noi cerchiamo di dare sempre del nostro in qualsiasi movimento che c'è oppure programmi relativi sempre al paese, nel senso che se ci sono delle feste noi partecipiamo e tutto va sempre in missione. E come ogni anno partecipiamo sempre alla Sagra della Castagna che tiene a fare il circolo Noi con voi di Cotronei. Sono ormai diversi anni che collaboriamo con loro e ci fa piacere partecipare a questa iniziativa. Venite numerosi, grazie. Come ogni anno siamo qui in questa sagra. Noi nel nostro piccolo crediamo in ciò che facciamo, anche se è un mondo difficile, però abbiamo tanta forza di volontà e non molliamo perché crediamo in ciò che facciamo. Noi nel nostro piccolo crediamo in ciò che facciamo, anche se è un mondo difficile,